Ehi a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, sono Marzia 76 e oggi siamo qua nel ritorno di Roma-Valencia E oggi ragazzi proveremo a passare dopo il gol che abbiamo fatto in casa del Valencia al Mestaglia Se ci fanno loro i gol in casa dovremmo andare sull'alimentare, se ci fanno due gol e io pareggio passano loro per due gol in casa Per un gol in casa in più, in caso dovrei fare il 3-2 Quindi ragazzi senza perdere le esitazioni direi di iniziare Lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella La grana del golador E commentate sotto nei commenti quello che mi pare a voi e grazie a tutti per il supporto Ragazzi dovete lasciare un like subitissimo perché se vinco la Champions League con la Roma dovrò giocare con la Champions League con l'Inter Cosa che ho detto negli altri 7 video da andata Vabbè, lasciamo perdere E' di un gioco De Rossi Dzeko Pastore Dzeko Quante volte avrò detto Dzeko? Ma Dzeko Rodrigo Ceriscevo Manolas C'è il Gizunder che li ho sul pallone di HB a pressare Pastore Gli HB la tocca per un secondo Under Zagnolo in fuorigioco Go! Ma vatna piander puu e stei napoletani Tifosi del Napoli De Rossi non tocca Carlo Soler Con dobbiamo Gonzalo Guedert Piccini Che era il figlio di Piccini Klaibert Con dobbiamo Rodrigo Manolas Zagnolo Garai Ceriscevo Jose Gaia Manolas Pastore non ci riesce Zagnolo Zagnolo La rete La rete del Valencia che va a pareggiare le cose E Dzeko in questo caso dovremmo vincere se non vogliamo dare supplementari Pastore Garai Dzeko Dzeko vede Pastore che torna indietro Changes Under Torniamo subito in vantaggio Si fa subito in vantaggio Subitissimo 1 a 1 2 a 1 per il complesso E andiamo E andiamo Justin Klaibert Dzeko Klaibert Klaibert Tiro a giro Vero Kolarov Uhuhuhu Attenzione Andiamo di quanto c'è andato Lontano E non di tanto rega Rega suonano gli incentivi sulla prova Non c'era un cacchio di nessuno Vabbè lasciamo però più 2 a 1 Siamo quasi a fine primo tempo Dzeko Che vede c'è un G Zunder Autore del secondo gol del pareggio Undeeeeeeer 3 a 2 2 a 1 nel complessivo 3 a 1 E andiamo E andiamo Ma adesso devono fare 2 gol per pareggiare O addirittura vincere Pareggiandone si può più andare supplementare purtroppo Non si può più andare su Ehm Dzeko Undeer C'è proprio Voluto così Undeeeeer Ehm Mamma mia Quasi eh Ehm 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 Se ne voglio aspettare Vabbè tanto cosa voglio fare da qui Metto direttamente il cross Così un po' da tiro però eh Lo scherzavo Kleinert Stavo per scherzare veramente Ehm Ehm Ho urlato negli orecchie a tutte Non so se sentirete il video E se ci avete sulla cuffia al massimo Secondo me vostro dovete male Spagato fra Federico Fazio Klaivert Ehm Piccini Carlos Red De Rossi Con solo quede Carlos Soler Bisogna un latero si apprezzare Baciuai DHB Il tiro Ma sto giù Non c'è rigore Non mi ha dato il rigore E non gli ha dato il rigore Era fallo netto questo eh Ah no fallo su Condogbi Ah che su DHB Era il rigore netto quello eh Era il rigore netto Uh Klaivert Mamma mia che c'è ancora armato Armato Zagnolo che non ci arriva Klaivert E' partito Klaivert Mamma mia quanto è veloce l'olandese Si fa tutto il contropiede Si fa tutto il contropiede Io ve lo dico eh Ah ecco Appena lo dico Finisce Per me che l'ho detto Tutto è possibile Non ci sono regole Nella W W Pada GONSOLO GUEDES Che firma il 3 a 2 in questa gara Aguirrita GONSOLO GUEDES GONSOLO GUEDES Ed è il 2 a 2 Accumulo 3 a 2 Per la Roma Che però dai Dobbiamo portarsi a casa della vittoria 3 a 2 Mica 2 a 2 Dezione GECO GECO ancora Sublimmente GECO Era così che abbiamo passato il turno Dai Dai che si passa i guardi No 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 Pacuai che vede GONSOLO GUEDES Rapiduzze Kodarov A intercettare E a mandare via Justin Cliver Che non arriva Ha il pallone Piccini Carlo Soler Con dobbia De Rossi Vas Uh Robin Ossen Dai che lo sbaglio No 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 Ti prego Ti prego Ti prego dimmi che non pareggio Faccio uscire Ossen per sicurezza Robin Ossen No 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 eh No eh Oh Meno male che c'è passio Meno male che c'è passio L'ha deviata alla fine E si passa Ai quarti di finale Rega vediamo contro chi siamo Sono curioso di vedere contro chi siamo Allora io sono Dovrei essere contro il Tottenham Se i miei calcoli non sbagliano Vabbè era su Ma dimmi te come dovrei fare Ma come non c'è il bail Ah no c'è il bail Non l'avevo visto Vabbè ragazzi ci vediamo domani con Real Madrid Roma Spero che i video vi sia piaciuto Se vi vi è piaciuto lasciate un commento mi piace Sfira dal canale Noi ci vediamo in un prossimo video Tante che salvo E bella ragazzi E bella ragazzi